Oggi non incontriamo più i campioni d'Italia, incontriamo i campioni d'Europa, quindi qualcosa di più. Quindi sulla carta è ancora più difficile, ma dall'altra parte c'è un Bari che spero che sia un Bari con maggiori conoscenze rispetto a quello dell'anno scorso, che già erano molte. Quindi credo sia un Bari che poi a San Siro non si può sbagliare, nel senso che se sbagli il partito finisce dopo 20 minuti. Se la ciente diventa entusiasmante per chi va a vederla. Il Bari come se la va a giocare? Come hai detto tu, se la va a giocare. A giocare la sfida per la Roma contro il Bari.